Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupafilette a Batipaglia. Grazie a tutti. La famosa bretella sopraelevata, la direttissima, insomma tante sono le nomination per questa strada a scorrimento veloce, che dovrebbe partire a sud di Eboli, tra Eboli e Campania, e arrivare nel Cilento, quindi ad Agropoli Sud. Sì. Almeno questa è l'indicazione generale. Il progetto generale. Che dovrebbe essere intorno ai 1 miliardo e 200 milioni di euro. Forse qualche cosa in più. E non in meno. Però il primo lotto è quello che è già stato finanziato. Sì. Quindi ci faccia capire, Presidente. Ma innanzitutto si è aperto un dibattito su un'opera che è necessaria. Perché io credo che se lo chiediamo anche a un bambino di tre anni, dovrebbe essere favorevole alla soluzione del problema dei tempi di percorrenza che vanno da Agropoli a Batipaglia per raggiungere l'autostrada. Quindi io credo che la prima domanda che ci dobbiamo fare è se questa opera è necessaria, come dicono tutti. Poi ci sono dei problemi che quando si va a fare una infrastruttura che è di dimensioni importanti, che impatta sul territorio, che modifica e può irrumpere in interessi, che sono però interessi particolari. Ma la classe dirigente e la politica deve fare gli interessi generali di un territorio. E non è una questione di Agropoli, di Eboli, perché sono i sistemi territoriali che oggi sono in competizione. Se noi non garantiamo una mobilità sicura ed efficace, i territori muoiono. Al di là dei ragionamenti che si stanno facendo sul commercio della 18, noi moriamo di traffico, quindi anche le attività della statale 18 debbono avere la possibilità di essere raggiunte e di raggiungere l'autostrada in tempi ragionevoli. Cosa che non avviene oggi. Allora, ovviamente il Presidente già sa e quindi ha anticipato le mie domande, però in realtà tutto ciò parte da uno studio di fattibilità del 2016, quindi appena si insediò De Luca. E quindi si verificò l'esigenza, come dice lei, di creare questa alternativa. La domanda però chiaramente è, noi andremo a creare, come ha detto già lei, una struttura impattante sicuramente sul territorio che andrà a fare centinaia di espropri, ovviamente. Ma le opere pubbliche, le strade, le piazze, le scuole si fanno attraverso gli espropri o le gestioni volontarie. Ma io dico una cosa, è vero che De Luca, ed ero io in Regione Campania, quando finanziò lo studio di fattibilità all'ANAS, ma di collegamento tra il nord e il sud della provincia se ne parla da tanto tempo. Io ho accennato anche il mio intervento in Consiglio Comunale a Capaccio, dove ovviamente si vuole speculare su tutto, ovviamente ognuno svolge il suo ruolo, ma voglio citare il prolungamento della tangenziale da Salerno ad Agropoli, il cui finanziamento per queste logiche strane di espropri commercio, il caffè, le mozzarella e le sigarette, fu revocato dal Cipe. Vogliamo parlare del tentativo che fece la provincia in Project Financing nel 2006, e sempre per interessi imprenditoriali e anche politici, non fu dato corso a quell'opera che io ritenevo talmente necessaria addirittura da consentire un pedaggio, perché chi vuole metterci tre ore lo può fare in maniera naturale, non si arrabbia. Chi invece voleva raggiungere l'autostrada, la parte sud della provincia di Salerno, lo faceva pagando il pedaggio come si fa in tutte le superstrade, le autostrade e le bretelle che sono in altre parti del paese. Quindi la questione degli espropri, allora noi nel mezzogiorno vogliamo modernizzare i territori attraverso le infrastrutture che comportano occupazione di suolo o vogliamo restare così come stiamo? È una scelta, ma ovviamente sono tutte domande banali che la classe dirigente si deve porre fino a un certo punto, perché io credo che tra le cose positive e eventualmente le interferenze negative che ci sono e ci possono essere, la classe dirigente deve propendere. Io sono che le cose bisogna farle non con i ma e con i sì, perché se indeboniamo i ma e i sì non si fa mai niente, ma le cose debbono realizzare con il nonostante. Però c'è una strada che si chiama Aversana e che è una strada provinciale fatta dai suoi predecessori. No, l'ho fatta io, quando ero assessore dei lavori pubblici. Ah, perfetto, ok. Ed è una strada che inevitabile... Pensata dal collega per Ollambiase che vive il governo del territorio, però diciamo fu fatta sotto la mia gestione dei lavori pubblici. Eh sì, la Versana è uno dei ma e dei sì, ma la Versana risolve il problema della mobilità. Beh, se arrivassimo fino a... È una strada dove incontriamo trattori e dove ci sono migliaia di accessi al raso, ai fondi agricoli, alle abitazioni, rotatorie. Ovviamente quella la completiamo pure perché è in corso un progetto già finanziato di 35 milioni di euro, ma risolve il problema. L'ho detto e lo dico perché rende molto l'idea. Non è che pensando di migliorare la candela si inventò la lambadina. La Versana è un'altra cosa. Oggi, il venerdì, sabato e domenica, tutte le strade possibili e immaginabili, anche quelle interpoderali, anche quelle comunali, verso Cerrelli, verso Matinelli, sono tutte impegnate, intasate, non si riesce a smaltire il trofe. Quindi la Versana si completa, ma non è la strada idonea, efficace, quella che ci vuole. La strada in progetti è una strada come la tangenziale, cioè parliamo di due corsie per senso di marcia, che risolverà in maniera definitiva la questione del collegamento con l'autostrada, con l'aeroporto e con la zona a nord. Poi, non è Agropoli, c'è tutto un parco nazionale che ha bisogno di questa strada, perché noi parliamo di tre ore da Agropoli, ma poi le persone devono raggiungere Vallo della Lucania, Casalvelino, Ascea, Ascea, Camerota, Palinuro, perché la Bussendini a Sapri non è ad Agropoli o a Vallo della Lucania. Quindi, poiché il territorio lo conosco molto molto bene, sono talmente convinto che si può ragionare su alcuni accorgimenti ed è giusto, perciò c'è il dibattito pubblico e lo faremo. Tant'è vero, sospettando l'indicazione del delegato dell'ANES sul dibattito pubblico, e faremo un incontro con i sindaci interessati direttamente e che vedono coinvolti i propri territori. Ma l'opera non è che interessa soltanto Agropoli, Capaccio, Serre, Albanella, Altaville, Eboli, stiamo parlando di più di 50 comuni a sud di Agropoli e poi parliamo di milioni di persone che raggiungono, possono raggiungere ancora di più il nostro territorio. Però, Eboli, per esempio, diciamo che i cittadini un po' hanno attaccato il sindaco perché è stato un po' silente, però dal punto di vista, per esempio, dello svincolo, qualcuno dice ma perché lo svincolo, o meglio la sopraelevata, lo andiamo a fare a 2-3 km dopo l'uscita, non si potrebbe fare ad Eboli in modo tale da avere la possibilità di scegliere se fare la SP30, e quindi arrivare magari, che ne so, al Cilento Outlet, alla Statale, a prendere le mozzarella nella zona di Eboli oppure fare la direttissima. Ma che ci possa essere uno svincolo più prossimo ad Eboli e non solo quello di… è una discussione che si deve fare, ma rispetto alla levata di scudi, al no, non ci piace, non la vogliamo… Vabbè, ma l'hanno capito che si farà. Questa è un'altra cosa. Io credo che oggi, come classe dirigente, dovremmo pensare e impegnarci per ottenere il massimo, eventualmente sacrificando il mino. Però ecco, è una discussione che bisogna fare se si capisce che è necessaria e che si può fare diversamente, ma certamente non la possiamo innestare sull'attuale svincolo, che è anche oggetto di ammodernamento e sarà appaltato. Ma non risolve il problema, perché noi non abbiamo un problema di accesso all'autostrada come si crea a Battipaglia, dalla rotatoria, da fuori Battipaglia, quindi solo là si perdono 20 minuti e mezz'ora. Noi abbiamo un problema prima a Monte. Quindi con i 375 milioni di euro, con questo primo lotto, io credo che già il 90% del problema del traffico e del collegamento è, secondo me, risolto. Ma su Eboli bisogna fare un discorso per non penalizzare la città, per rendere anche utile alla città di Eboli questa arteria. Ma poi, d'altra parte, una città di oltre 30 mila abitanti è un punto di riferimento di gran parte del territorio, a sede di un ospedale. Quindi per raggiungere Eboli, non è che questa è una strada a senso unico, che dall'autostrada si può andare solo da Agropoli, ma il Cilento, la Piana del Sele, gli Alburni, il Calore, possono raggiungere Eboli, che ha uffici, centri commerciali, è una città importante, e quindi la deve vivere come un'opportunità e non come un danno. Allora, archiviamo un attimo la questione bretella. La rivoluzione Alfieri è arrivata anche in provincia? Diciamo che è arrivato il mio metodo, il mio modo di fare, di amministrare, di agire concreto, senza fronzoli, senza chiacchiere. Qual è lo status quo che ha trovato, Presidente? Ma, beh, non voglio fare processi e dare giudizi, però ovviamente c'era tanto da fare, molto da fare. Io mi sono candidato per farlo nei tempi giusti, con una macchina amministrativa che fa squadra con il Presidente e con i consiglieri, con un territorio che vede coinvolte tutte le amministrazioni comunali e soprattutto tutti gli organismi che sono sul territorio, che già sono stati nella quasi totalità incontrati. Poi abbiamo posto in essere delle iniziative per ascoltare il territorio, perché è inutile che la politica decide un progetto di sviluppo quando poi le comunità, i soggetti sui territori, non lo fanno proprio, non lo costruiscono e non partigliano poi all'esecuzione del progetto. Quali sono i settori dove porterà un valore aggiunto? Cioè quelli su cui punterà maggiormente? Ma ci sono le competenze fondamentali dell'ente, sulle quali abbiamo l'obbligo, il dovere, non dobbiamo dormire la notte, che sono le strade provinciali, le scuole, l'ambiente, quindi queste sono la cultura, e quindi queste sono incompense nostre. Ma poiché il ruolo deve svolgere tutto fino in fondo quello che è il coordinamento, la visione, quindi noi abbiamo già iniziato con questi strumenti importanti dell'incontro, della mediazione, della costruzione della rete, di coinvolgere tutti gli enti, abbiamo fatto un bando per costituire quattro consulte dell'ambiente, del turismo, della cultura e dello sport, perché noi vogliamo condividere e vogliamo ascoltare i territori e abbiamo già imbossato e messo mano alla modifica del PTCP, il piano territoriale di coordinamento provinciale, che è datato da oltre dieci anni, che deve diventare un piano strategico. La questione delle scuole che sono in vitto, un piano straordinario di costruzione di nuovi edifici scolastici, moderni, dignitosi, c'è una questione dell'uso delle palestre negli orari non didattici, adesso sono appena 70 giorni, abbiamo accelerato sugli appalti, tant'è vero che stamattina mi è stata consegnata la prima nota dei tanti appalti che abbiamo portato avanti in queste settimane, inizieremo i cantieri per fare in modo che tutti i lavori di manutenzione siano svolti durante la vacanza estiva e quindi non interferendo sull'elezione, sulla comunità studentesca, sui docenti, sui dirigenti scolastici. Io arrivo qua prima di tutti, io arrivo qua la mattina alle otto e mezza e me ne vado quando è buio. Non ho dubbi. Quindi il tempo non lo spreco, il tempo è la risorsa più preziosa e io sono abituato a utilizzarlo bene. E quindi riesce serenamente a svolgere entrambi i ruoli? Diciamo, togliamo questo serenamente, però riesco a farlo perché mi ammazzo di lavoro, ma lo faccio con grande passione e non mi costa. Comincia la mattina alle 5? Che ora si alza? Diciamo che alle 6 di mattina faccio i primi appunti per quello che devo fare la giornata e poi alle 8 meno un quarto esco di casa, una prima sosta in un bar... A Capaccio? No, prima d'Agropoli, dove incontro un po' di gente e poi... Prosegue la sua giornata. Alle 8 un altro bar a Capaccio, dove la gente... Giustamente per par condicio. Dove la gente ti può trovare, può dirti delle cose, può chiedere, può stringerti la mano e può vedere se il presidente della provincia e il sindaco sono sempre grintosi, e si prepara già per il prossimo anno. Certamente. Le elezioni sono molto rapide quando si lavora e soprattutto non le temo. Quindi appuntamento al 2024, però noi ci rincontriamo perché ovviamente noi come Eboli adesso dobbiamo seguire il presidente della provincia, come Eboli battipaia, piana del sere, quindi sicuramente ci vedremo ancora. Grazie Presidente, ci faccia sapere quando ci sarà questo incontro pubblico per quanto riguarda la provincia. Grazie a te. Arrivederci da Sacobad. La tua nuova casa ti aspetta in via Cupafilette a Batipaglia.